Visto che non l'ha ancora fatto nessuno e visto che le informazioni sono tantissime, volevo fare questo video, ovvero tutte le novità di ECMA, tutte le informazioni che bisogna avere prima di andare a ECMA. Ok ok, ma cos'è ECMA? ECMA significa Esposizione Internazionale del Ciclo Motociclo e Accessori, quindi c'è una fiera a Rofiera dal 9 al 12 novembre aperta al pubblico dove si potranno vedere tutte le novità non solo relative al mondo dei motori ma anche ai veicoli elettrici, alla micromobilità, agli accessori, ai vestiti e tanto tanto altro ancora, per cui beh un'occasione perfetta per tutti gli appassionati, prima di entrare è necessario acquistare il biglietto, io purtroppo non ho sconti in merito. Quest'anno le novità sono davvero tantissime, in questo video ovviamente ho cercato di raccogliere solamente quelle relative ai motori, anche perché se dovessi parlare di tutte 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 le novità non basterebbero tre ore di video e sarebbe piuttosto noioso, ma vi dico di più, ci potremmo incontrare, sì, dove ci incontreremo il sabato, la giornata di sabato 11 novembre, mi troverete dalle 11 alle 12.30 presso lo stand di Insta360, ormai mio partner da un bel po' di anni e dalle 14 alle 16 mi troverete allo stand di SV Motec, vi lascio comunque la posizione esatta degli stand qui sotto nella descrizione. Ma prima di continuare a scoprire queste novità in 10 minuti, prometto farò molto veloce, beh vi ricordo che l'unico modo che avete per supportarmi è quello di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche. Detto questo, iniziamo subito, in ordine alfabetico, quindi senza nessuna preferenza. Aprilia, nuova RS 457, la novità da 48 cavalli, si vocifera anche l'attivo di una probabile Tuareg Rally, quindi sospensioni più performanti, chissà se sarà una degna alternativa della Desertix Rally. E in più, voci di corridoio dicono che potrebbe esserci proprio un restyling della Tuareg per il 2024, ma vedremo. Ovviamente molte di queste novità sono supposizioni, il succo lo vedremo proprio a ECMA ed è proprio per quello che sarà bello esserci. Le presentazioni avverranno il 7 e, indovinate, io sarò lì. Benelli, dopo la disfatta della TRK800, presentata invece da QJ Motor, dovrebbe arrivare una Naked, la Tornado, dovrebbe essere basata sulla piattaforma parlo della TRK500, quindi stesso motore, vedremo cosa tireranno fuori. CF Moto, tante le novità, in arrivo, odite odite, una sportiva con motore a tre cilindri, chissà se sarà una degna erede virtuale della Triumph Daytona 675. Dopodiché presenteranno anche loro una 21 pollici, dagli sketch sembra quasi una, diciamo, molto simile alla Tuareg e dovrebbe arrivare anche un restyling o una nuova versione della 800 MT, la loro punta di diamante, una delle moto che onestamente mi piace di più. Ducati Unplane ha praticamente rinnovato l'intera gamma. Tra le novità più interessanti sicuramente la nuova Ducati Multistrada V4 RS, sigla lunghissimo Audi, Ducati, insomma c'è di tutto e di più. C'è ovviamente la Desert X Rally, sarò curioso di vederla dal vivo. E in più, big announcement degli ultimi minuti, Tony Cairoli è stato ingaggiato da Ducati per competere nel mondo delle fuoristrade e sviluppare il primo motocross, la prima moto enduro di Ducati. E questa è una notizia bomba perché Ducati non ha mai avuto partecipazione nel mondo dell'enduro specialistico. Quindi chapeau e dovrebbe arrivare anche la cosiddetta Hypermono, quindi un'alternativa alla 690 made in Ducati. BMW non sarà presente così come non sarà presente Harley Davidson. Perché vi chiederete voi? Hanno presentato il 1300 GS, la nuova F900 GS? Certo però queste fiere non interessano né a BMW né ad Harley perché hanno una clientela che tanto sa cosa comprare, compra per affiatamento al marchio e di andare alle fiere forse non gli frega più di tanto. Ci sarà sicuramente comunque qualche 1300 in giro. Passiamo a Fantic. Se ne è parlato poco, quasi passata in sordina, ma dovrebbe essere praticamente certo l'arrivo del caballero 700 Rally. Una novità che ci siamo auspicati un po' tutti, l'unica incognita, il prezzo. 11.999, 12.499, lo vedremo sicuramente a EICMA. Honda, la casa giapponese dalle ali che non va scambiata per Red Bull, deve presentare la nuova Africa Twin con il 19 pollici. Quando provai l'Africa Twin col 21 mi sono augurato che Honda facesse questo passo e beh l'ha fatto. In più, come altre novità, ci potrebbe essere una CB1000 Hornet, quindi la Hornet 1000 sta ritornando, chissà. Potrebbe arrivare addirittura una crossover quattro cilindri col motore 1000 sempre derivato dalla CB1000 Hornet, una alternativa alla S1000XR di BMW e alla V4 Pikes Peak di Ducati e dovrebbe, si vocifera, arrivare una nuova Honda Transalp. Si parla molto di questa nuova E-Clutch che dovrebbe simulare il funzionamento del DCT ma con minori ingombri, con minori costi e con la stessa efficacia. Praticamente la frizione viene gestita elettronicamente e non più dal pilota che comunque mantiene una sorta di controllo perché la leva rimane e si vocifera di un eventuale Transalp rally, quindi con un reparto di sospensioni e alcune chicche un po' più votate al fuoristrada piuttosto che alla strada. Ma anche in questo caso lo scopriremo a EICMA. Kawasaki, negli ultimi anni non si è vista molto EICMA, nel senso che lo stand era presente ma non è che ci fossero chissà che novità. Quest'anno dovrebbe finalmente presentare sia la nuova ZX4R con 80 CV, 4 cilindri 400, sia le sue moto ibride. È stata presentata la sua moto ibrida di serie, praticamente già ordinabile, acquistabile. Dovremmo vedere l'ampliamento della gamma perché si vociferano oltre 15 modelli da qui al 2025, quindi chissà cosa è in serbo Kawasaki nel mondo dell'elettrico ibrido. Kovemoto, si parla da un anno di questa 800X, non è ancora arrivata, si parla da un anno di questa 450 rally, non se ne vedono ancora in giro, chissà che finalmente vedremo i modelli effettivamente acquistabili dagli utenti qui anche nel nostro paese e soprattutto i prezzi definitivi. KTM, grande ritorno a ECMA e grande, grandissima novità, infatti presenterà la nuova SuperDuke 1390. Da quello che ho capito l'LC8 di KTM non dovrebbe subire grossi stravolgimenti ma aumenterà la potenza e verrà aggiornata alla normativa Euro 5 Plus. Quindi chissà, 190 CV? arriverà ai 200 CV tanto spiccati da alcuni clienti? Non lo sapremo, ma sicuramente sarà un'altra moto da teppisti straccia patenti che non vedo l'ora di provare. Moto Guzzi, ritorniamo in Italia perché sicuramente arriverà la nuova Moto Guzzi Stelvio con piattaforma V100, quindi il motore che ho provato l'anno scorso e che tanto mi è piaciuto. Chissà se aggiusteranno un po' la potenza verso l'alto, chissà se aggiusteranno l'erogazione, ma sicuramente sarà una Maxi Enduro con ruota da 19 pollici. Quindi la sfida al GS è apertissima in casa Moto Guzzi. Per il resto non dovrebbero esserci tante altre novità. Moto Morini in grande spolvero, X-Kape 1200 praticamente confermata, c'è la nuova Calibro e dovrebbe arrivare una nuova piattaforma. Non si sa ancora se è una piattaforma basata 800, quindi con magari una Naked e una Enduro Media, oppure una piattaforma completamente basata sul 1200 con una Super Naked tipo la Tornado. Chissà, chissà. E mi vi augusta, vabbè, a parte tutte le luxury, model, fast, eccetera, eccetera, tutti i modelli di lusso che solamente in tre persone al mondo potranno permettersi, arriva finalmente la 9.5 Lucky Explorer a tre cilindri. Questa Maxi Enduro con ruota da 21 che avevamo intravisto negli ECMA scorsi ma di cui poi si erano un po' perse le tracce. Sparita nel dimenticatoio invece la Lucky Explorer 5.0 che doveva essere basata sulla piattaforma del TRK 500. QJ Motor ha deciso di preservare la sua tecnologia e non darla agli italiani. Bella mossa. QJ Motor appunto dovrebbe arrivare con la gamma che già conosciamo, tra cui la SRT 800 che era in origine la TRK 800. Royal Enfield anch'essa tante novità. Arriva finalmente dopo avercela fatta vedere lungo e largo su Instagram questa nuova Himalayan 450. Novità principale, nuovo motore 450 sviluppato da Royal Enfield raffreddato al liquido con 40 cavalli quindi guidabile con patente a 2 ma soprattutto una riduzione di peso netta. Si passa dai 220 kg e spicci a 160 kg in ordine di marcia per cui dovrebbe essere tanta roba. Un'alternativa al caballero per chi vuole la ruota da 21 pollici. In più dovrebbe arrivare anche la Bullet 650. La piattaforma già la conosciamo ma in forma Bullet. Suzuki V-Strom 800 con ruota da 19. L'anno scorso hanno presentato l'800 DE ma si vocifera una GSX-8R. Anche Suzuki entra nel calderone di queste sportive medie piccole con motore a due cilindri. La piattaforma con la GSX-8S è stata molto apprezzata. Vedremo se tirerà una sportiva tutto pepe. In più nuovo aggiornamento per la gamma dei 1000 perché il K5, lunga vita il K5 dovrebbe essere posizionato in una crossover che dovrebbe sfidare la S1000XR. Quindi i giapponesi hanno nel mirino proprio la S1000XR di BMW. Povera cosa gli avrà mai fatto. Abbiamo Triumph poi con le nuove Scrambler 400 e 400X. Motine molto interessanti. Mi piacerebbe davvero provarle e fare qualcosina assieme. Chissà che il prossimo anno non realizziamo qualcosa. E chissà arriverà finalmente una nuova street con una nuova piattaforma. Questa 765 ha qualche legame di troppo col passato. Chissà che non venga rivoluzionata. Questa è una mia ipotesi. Dopodiché novità anche per quanto riguarda la 1200 Scrambler. Bellissima moto. Magari il prossimo anno si fa qualcosa anche per questa. E infine Yamaha. Arriverà finalmente una nuova Teneree? Un aggiornamento a questo CP2? Chissà. Non lo sapremo mai. Quello che vi posso dire è che alla Transitalia Marathon c'era un muletto di Teneree estremamente camuffato. Quindi magari arriva effettivamente qualcosa. Hanno presentato da pochissimo una nuova XSR 900 GP. Piattaforma dell'XSR 900. Semicarena. Prezzo stellare. E questa è la strategia di Yamaha per aumentare le vendite. Chissà che finalmente però non arrivi magari questa tanto auspicata R9. Una sportiva media che forse manca nel panorama attuale. Per questo video è tutto. Queste dovrebbero essere le principali novità per quanto riguarda il mondo moto. Poi vi ripeto ci sono tantissimi espositori. Secondo me in una giornata neanche si finisce di girare tutto EICMA se proprio si vuole vedere tutto. Cinesi ed elettriche in grande spolvero. Ci saranno sicuramente tantissimi padiglioni, tantissimi accessori e il posto giusto anche per chi vuole personalizzare la propria moto perché magari si scopre qualche produttore, qualche gadget nuovo. Ci vediamo sabato la mattina da Insta360 e il pomeriggio da SWMOTEC. e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!